Tre fermi d'indiziato di delitto firmati dal procuratore Luigi Patronaggio e dal PM Gianluca Caputo sono state seguite a Licata dai carabinieri. I tre indagati sono accusati di tortura, sequestro di persona e violazione di domicilio. Stando all'accusa i tre avrebbero picchiato altrettanti giovani solo perché disabili. Una delle vittime sarebbe stata pestata con un bastone legata con del nastro adesivo e abbandonata per strada fino a quando una donna di passaggio non lo ha liberato. In altre occasioni i tre disabili presi di mira sarebbero stati umiliati con della vernice al volto e dei risi sui social network. Le vittime a volte erano state legate a una sedia con un secchio in testa e picchiate, calci, pugni, bastonate, minacce di morte. Il tutto è stato sempre filmato con gli smartphone e diffuso in rete con titoli di derisione. In carcere sono finiti Antonio Casaccio, 26 anni, Gianluca Sortino, 23 anni e Angelo Marco Sortino, 36 anni. Nelle prossime ore i PM chiederanno la convalida del fermo per i tre indagati che hanno nominato come difensore l'avvocato Santo Lucia e sarà fissata l'udienza davanti al GIP.